sono super felice è arrivato un pacco da amazon america questo ho fatto un fioretto con i mici del gruppo ok loro sanno franci giorgio e sergino loro lo sanno eravamo in videochiamata al dolentois e c'era c'era questa cosa qui che c'è dentro c'era lì e loro hanno detto giorgio ha detto ma no ma non spendere tutti quei soldi ma tanto non sanno cosa c'è dentro ah già è vero e vabbè non spendere tutti quei soldi è vero e vai a prendertela su amazon quindi ho detto ok faccio un fioretto non compro più niente su vintage finché non riesco ad acquistarla su amazon è arrivato è arrivato anche prima doveva arrivare il primo di giugno questa cosa qui che voi avete già visto la copertina adesso devo fare la copertina in italia non è uscita in italia hanno ben deciso di non farlo uscire e non so perché cioè sono talmente cattivi cattivi danno qualche quindi solo ho paura ho paura ho paura ho paura simona oh ma dai però cosa c'è vediamo è una cioffecca è una cioffecca vero simona parla no non esco con te oggi eh simona perché c'ha gli occhi invasati c'ha gli occhi invasati ma dai è stampata bene si ah ma dai tutta questa roba ok lei adesso facciamo la fotocopertina mettiti qua faccio lo screen no faccio lo screen con di qui se passi dietro eh passa giù a gattoni ok giù l'ho fatto andiamo subito ad aprirla non perdiamoci no è la scatola solo come tutte le altre e di questa serie di questa serie mi manca solo lei però su amazon c'è lei ce l'ho la devo unboxare perché è un regalo di natale ma ancora la devo unboxare l'ambozzerò 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 e adesso è arrivata lei l'ha tanto amata naomi campbell sembra lei ok la scatola è il model numero 10 barbie signature lux 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 tutte queste sono le tre e le scatole sono tutto tutto uguali quindi non perdiamoci in ciancere e direi di andare ad aprire loro tu si io non ho più preso niente a me mi hanno annullato un ordine su internet brutta strega che non è altro una strega di una ma era uno no quella che la vendeva quella che ti ha bloccato si si era uno era uno stregone brutto stregone ok e andiamo subito allora vabbè qua ci abbiamo il certificato di utilizzare con dietro il suo ilistallo che ora andremo a prendere ok ok A presto. Scusate che ha di un giro, ma non sapete che mi mette il calcio di nuovo. Basta, libera qui. Io non ci prendo tutto di nuovo. Upp, dai. Oggi, non ci muove. Oh. Tre anni per far uscire. Ma che problemi hai? Ok. Eccola qua, lei è una Toll. L'avrete magari già vista, unboxata su YouTube, ma chi se ne frega io ce l'ho adesso e quindi ve la faccio vedere adesso. Guardate che splendido trucco viola. Ha gli occhi, quel castano chiaro sull'aranciato sembra quasi, vero? Mmh. Ok. Trucco viola e rosa, spettacolare. 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 Bocca, mmh, così. Di un... Ma è un pesca? Sì. Un pesca. Molto bella, veramente. Molto bella, veramente. È scura, veramente scura, scura, scura. I capelli sono lisci. Se adesso sono scombinati. Morbidi, veramente. Tocca, Simona. Morbidi, 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 lunghi, neri. Arrivano fino al papau. Poi, andiamo giù. È snodata, ormai lo sapete che le looks sono tutte snodate ai gomiti, ai polsi, anche di qua, entrambi. Vabbè, la testa si muove. Si muove questo. Il busto. Il busto. Ginocchia. E anche... Tutte e due le ginocchia. E anche... I piedi, che sono di legno. Ah. Ok. Perfetto. Anatol, l'ho detto. Molto bella, voi, raga. Indossa un crop top con gli sbuffi qua. In tessuto tipo carta stagnola. Cioè, è tessuto. Però è... All'occhio sembra carta stagnola. Ecco quel segno lì. Velcro dietro. Ok. Pancia di fuori, ho detto crop top. Minigonna, nera, lucida. Non stretta, volevo dire, scusate. Larga. Molto, 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 molto bella. Molto. Anche questa ha il velcro. Speriamo che tengono nel largo del tempo. Perché questo outfit mi piace proprio. Sì. Allora. Poi vabbè. Dopo diciamo. Dopo diciamo. E ha degli stivaletti argentati. Che va a richiamare il top crop top. Come volete chiamarlo voi. Allora. La Barbie è molto, molto bella. Ah, ok. Viene con... Non ci sono accessori zero. Lo sapete ormai che con le looks zero accessori. Ciao, 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 ciao. Ve li scordate. Arriva col suo piedistallo. Ciao. Ok. Eccola qua. Questa è la Barbie. Molto, molto bella. Allora. L'outfit... Lei è bella e stupenda. Guardate il viso. Cioè. Guardate i capelli dietro. Cioè, veramente. Sono morbidissimi, morbidissimi e morbidissimi. Sembra Naomi Campbell. Cioè. La modella. Non so se voi la... Chi la conosce o che cosa. Eh. Allora, donna mia. L'ho elettrizzato tutti. Tammite le d'attacco. Ah. Ok. Grazie Simona. Allora. Adoro tutto di lei. L'outfit sì. Ma. C'homma. Non sta molto nero. Lei è scura. Lei è scura. Lei è una gonna nera. Sì. Lei va a perdere un pochettino. Non credete voi? Sì. Io l'avrei fatto magari indossare qualcosa di chiaro. Bianco. Ma bianco è... Bianco. Tu fidati che il bianco con la pelle scura così sta molto bene. Sì. Però ho detto bianco è troppo semplice di cosa. Cioè di... Avrei fatto indossare qualcosa magari di giallo. Giallo ci stava bene anche. Perché... Posso vederla? Il nero è bella. La gonna è bellissima. Io la userò. Magari la userò anche su di lei. Ovviamente. Però... Cioè dovete giocare un pochettino di più sui colori. Ok. Va bene. Magari uno dice... Io ho la pelle scura. Posso mettermi nero. Però... Si va a perdere. Non da... Non è che si va a perdere. Non da... Non fa splendere ecco. Il suo colore. La sua colorazione non lo fa splendere. E... Quindi si va a perdere un attimino. Ma è bello lo stesso. Voglio dire. Non è che è brutto. È bello. Solo che se gli davano un colore più chiaro. Risaltava di più la sua bella colorazione. Perché è una bella colorazione scura scura scura. Mi piace veramente tanto. Mi piace veramente tanto. La volevo. Ho fatto sto fioretto. E me la sono a ca... A ca... A ca... A ca... Se la volete dovete andare su Amazon.com. Perché è sul gruppo... È sul gruppo. Sul sito di... Mattel creation. Sono esaurito. Perché ci sono i baccucchi. Che se ne prendono più di una. Per poi arrivare in Italia. O in altra parte del mondo. A rivendersela. A 80, 90, 100 euro. E lì costava 25 euro. Quindi quelli che se la volevano per collezionare. Sono rimasti a bocca asciutta. Quindi perché ci sono i furbetti del momento. Mi chiedono. Mi chiedono. Io sono furbetto. Ne ne prendo 25 euro. E me la rivendo 80 euro. E intanto è la. Quindi detto questo. Mai fare i furbetti. Mai fare i furbetti. Fa bene una volta. E non fa bene due volte. Quindi perché è rimasto a bocca asciutta. Può sempre prenderselo su Amazon.com. Che comunque è facilissimo. Pensavo che sa che cosa. Però è facilissimo. Bene dentro. Basta. Basta. Perché se no. Arriva un video. Iper lungo da editare. E non mi sembra proprio il caso. Detto questo. Noi vi salutiamo. E vi diamo appuntamento. Al prossimo video. Mi raccomando. Like. Iscrivetevi. E attivate la campanella. Per ricevere le notifiche dei nostri video. Ciao. 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 Avvicina. Ciao. 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 Ciao.